Buongiorno, non lo so. Questa è la mia camera. Parlo piano per non farmi una serie, perché mi potrebbero prendere in giro. Sì, c'è. Vediamo quale resto. Sono a Wiltshire. Mi tirano un attore di strada. Il posto è bellino, in campagna. Sono un po' di pepe, però l'illustro. Questa è la mia valigia. Mi pare le scarpe. Mi pare le chiavi. Mi pare le scarpe. Mi pare le scarpe. Mi pare le scarpe. Mi pare le scarpe. Ho scelto la mia valigia. E questo è un po' di pepe. Questa è la pagheca. Oggi vi faremo le chicche americhe, questi ingressi. Ieri siete un po' noiosi, diciamo. E' un po' di sorpresa, perché comunque la Marcello c'è inoltre, con un bagno solo. E' come se spavendo un po'. Comunque, se non c'è il fatto, proprio io mi scopo più da lontano che sto facendo. Ci sentiamo stasera o domani. Venga lì, vai così. Parole dure. La vita non mi scottola, non mi piace di scegliere. Baci, il vostro debito armato.